Torna alla vittoria la forza e coraggio che si prende il derby contro la Vissariano e dà respiro a una classifica che si era fatta complicata. Ancora emergenza per Mr. Mauro che in questa sfida deve fare a meno degli squalificati Sicignano e Misisca, espulsi nella sfida contro il città di Agropoli, e Tortola in panchina per un problema muscolare. La cronaca della gara comincia con la punizione di Walter Russo che si spegne a lato. La reazione della Vissariano è sterile, ben più pericolosa la squadra beneventana che va vicino al gol al ventunesimo con la punizione di Capone. Federici è strepitoso nella risposta. Alla mezz'ora la forza rischia il capitombolo. Geloso perde palla e del via la ripartenza irpina che porta alla conclusione di Franzese, ma Zotti è attentissimo nella circostanza. Al trentaseesimo torna a farsi vedere la formazione di casa col solito Russo. L'attaccante Caudino parte sul filo del fuorigioco e, da posizione defilata, calcia a colpo sicuro ma colpisce Federici. La prima frazione di gioco si chiude con la doppia conclusione di Spaccamiglio per la squadra di Del Vecchio, ma in entrambe le circostanze l'attleta arianese viene murato. La ripresa è meno bella rispetto alla prima parte. Le migliori cose si vedono nei primi venti minuti. Al terzo Capone crossa. La sfera è tra i piedi di Caruso che cincischia e non riesce a concludere in maniera vincente. Al diciannovesimo la rete che sblocca il risultato e decide la partita. Brogna viene steso in aria da Spaccamiglio e calcio di rigore. Russo si presenta davanti a Federici e batte in maniera magistrale. Pala all'incrocio e 1-0. Non succede nient'altro fino alla fine. La forza e coraggio si prende questi tre punti importanti. La speranza è di continuare su questa strada ma soprattutto di recuperare tutti i giocatori per dare a mister Mauro la sola opportunità di poter scegliere la squadra migliore da mandare in campo.